3 voti in generale Prima è... Raccontatevi Ogni canale è proprio come se fosse una specie di chat room Andate di là Dividatevi in due gruppi Sembra un po' di essere all'una par Tutti pronti? Allora adesso si parla Si possono anche ruotare Come l'hai fatto? Anche random Lo stile letterario è ormai ben consolidato Ovvero quello del cyberpunk Ecco Quindi Ti Grazie a tutti.